ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutorial unboxing oggi c'è arrivato un pacco da amazon ed andremo ad aprirlo insieme a voi comunque all'interno ci sono i filtri che abbiamo ordinato poco tempo fa e sono i filtri nd4 nd8 e il filtro polarizzatore dopodiché faremo anche delle prove comparative e vedremo un attimino la differenza con e senza i filtri e la differenza tra i due filtri perfetto ora andiamo ad aprire il pacco ok procediamo spacchettare i filtri che sono arrivati da amazon questi sono filtri che su amazon da compatibili per sia l'osmo che per l'inspire faremo poi un altro video per vedere la compatibilità e faremo anche qualche test per vedere se ci sono differenze con e senza i vari filtri questo è un fake niente ok confezione in plastica rigida permette di tenere le tre lenti al sicuro all'interno ci sono la nd4 nd8 e filtro polarizzatore tutte quante con la struttura in metallo questo ad esempio il filtro polarizzatore con la sua ghiera questi poi andremo a testarli in un altro video facendo un termine di paragone il prezzo di questi filtri di 14 euro e 99 poi magari vi metto il link di dove ho acquistato questi per questo unboxing è tutto stiamo preparando dei video comparativi che a breve troverete sul nostro canale quindi mi raccomando continuate a seguirci alla prossima